ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerà i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco bendalina omnivision italia srl ultimo aggiornamento 11 ottobre 2021 cosa a bendalina confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzione di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere bendalina durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esteri cosa a bendalina bendalina a un farmaco a base del principio attivo benda zac lisina appartenente alla categoria degli analgesici fans e nello specifico antinfiammatori non steroidei e commercializzato in italia dall'azienda omnivision italia srl bendalina può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni bendalina 0,5 per cento collirio 30 flacon monodose 0,3 ml bendalina 0,5 per cento collirio 7 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare omnivision italia srl ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe c principio attivo benda zac lisina gruppo terapeutico analgesici fans forma farmaceutica collirio indicazioni coadiuvante nel trattamento della cataratta cataratta degenerativa presenile e senile cataratta giovanile cataratta diabetica opacizzazione della corteccia o del nucleo del cristallino di diversa origine natura posologia collirio monodose instillare in ciascun occhio due gocce o metà del contenuto di una monodose tre volte al giorno secondo il parere del medico collirio pluridose instillare in ciascun occhio due gocce tre volte al giorno secondo il parere del medico controindicazioni ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 avvertenze speciali e precauzione di impiego collirio monodose poi car copyright il collirio della confezione monodose non contiene conservanti il flaconcino va gettato dopo l'uso anche se utilizzato solo in parte il collirio monodose deve essere utilizzato entro vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione non sono state segnalate interazioni negative con altri farmaci di comune impiego nel trattamento delle affezioni riportate nelle indicazioni terapeutiche vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it assumere bendalina durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere bendalina durante la gravidanza e l'allattamento nonostante studi clinici in pazienti gravide o in allattamento non abbiano evidenziato particolari controindicazioni all'uso del farmaco n a copyright provocato effetti indesiderati a carico della madre o del bambino si consiglia vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari bendalina non appare presentare alcun effetto in grado di poter influenzare il livello di alterazione e la rapidità dei riflessi richiesti per la guida e l'impiego di macchine effetti indesiderati bendalina collirio non ha alcun effetto sistemico e risulta in genere ben tollerata localmente in presenza di uno stato irritativo della congiuntiva può provocare un modesto e transitorio senso di vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio non esistono al presente esperienze di sovradosaggio con bendalina proprietà farmacodinamiche categorie farmacoterapeutica agenti antinfiammatori non steroidei codice atc s01bc 07 bendalina a una sostanza originale dotata di attività scavenger dei radicali liberi e capace di prevenire alcune alterazioni chimico fisiche causate dalla denaturazione proprietà farmacocinetiche dopo installazione oculare di bendalina 0,5 per cento si raggiungono livelli plasmatici trascurabili e privi di effetti sistemici i risultati degli studi condotti con bendalina dimostrano che il prodotto dopo singola installazione dati preclinici di sicurezza le prove tossicologiche su diverse specie animali hanno dimostrato che bendalina a ben tollerata e non possiede attività teratogena e nea copyright mutagena la dl 50 del prodotto somministrato per os varia da elenco degli eccipienti flaconcino monodose 100 ml contengono acido borico g 0,480 e l'elisina g 0,157 idrossipropilmetilcellulosa g 0,500 potassiocloruro g 0,760 acqua per preparazioni iniettabili cubi a 100 ml flacone pluridose 100 fonte foglietto illustrativo ai fa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione pià aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'ai fa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato